Una serata straordinaria all'insegna della solidarietà, all'insegna anche della cooperazione tra grandissimi chef a livello internazionale. Sì, è proprio quello il punto. Nel momento in cui nella tua vita ricevi tutto, è il momento di restituire. E quindi io sono molto legato a queste cose perché sono stato molto fortunato nella mia vita. Perciò io e mia moglie abbiamo creato questa associazione che è Food for Soul e aiutiamo ad aprire i reflettoni in tutto il mondo. Però quando la natura alza la voce, come in questi casi, visto che è successo a me, io sono di Emilia, sono di Modena, bisogna essere tutti uniti. Passa tutto ma passa col tempo e la speranza. Se hai speranza sarà un bel futuro. Quindi io sono qua proprio per portare speranza, per portare condivisione, per essere insieme a tutti questi ragazzi. Sono tantissimi ed è bellissimo sentire e respirare questa atmosfera.